Lev Nikolaevich Tolstoy, in russo, in italiano anche noto come Leone Tolstoy, Jasna Giapoliana, 9 settembre 1828, a Stapovo, 20 novembre 1910, è stato uno scrittore, filosofo, educatore e attivista sociale russo. Divenuto celebre in patria grazie a una serie di racconti giovanili sulla realtà della guerra, il nome di Tolstoy acquisì presto risonanza mondiale per il successo dei romanzi Guerra e Pace e Anna Karenina, a cui seguirono altre sue opere narrative sempre più rivolte all'introspezione dei personaggi e alla riflessione morale. La fama di Tolstoy è legata anche al suo pensiero pedagogico, filosofico e religioso, da lui espresso in numerosi saggi e lettere che ispirarono, in particolare, la condotta non violenta dei Tolstoiani e del Mahatma Gandhi. Biografia. La vita di Tolstoy fu lunga e tragica, dominata da una profonda tensione. Tolstoy ebbe un'incessante, tormentosa evoluzione interiore, lottò con se stesso e con il mondo, e questa lotta, talora impetuosa, alimentò senza sosta l'impulso creativo. Perciò lo studio della sua vita, come ha scritto Igor Sibaldi, una traccia per accostarsi alla sua vita la offrì Tolstoy stesso, quando scrisse, negli ultimi anni, infanzia. Lev Nikolaevich Tolstoy nasce il 9 settembre 1828 nella tenuta Giasna Giappoliana nel distretto di Scecchino, governatorato di Tula. I genitori sono d'antica nobiltà, la madre, di 5 anni maggiore del marito, è la principessa Maria Nikolaevna Volkonscagia, Giasna Giappoliana era la sua dote di matrimonio, mentre il padre Nikolaevich è discendente di Piotr Andrevich Tolstoy, che aveva ottenuto il titolo di conte da Pietro il Grande. La madre, di cui Lev non conserverà alcun ricordo, muore quando egli ha appena due anni. Dopo qualche anno gli muore anche il padre, corse voce che l'avessero avvelenato i suoi due servi prediletti, Lev lo ricorderà come mite e indulgente, lasciandolo precocemente orfano. Fu così allevato da alcune zie molto religiose ed educato da due precettori, un francese e un tedesco, che diventeranno poi personaggi del racconto infanzia. Giovinezza e prime opere Nel 1844 si iscrive all'Università di Kazan nell'attuale Tatarstan, prima alla Facoltà di Filosofia, sezione di Studi Orientali, dove supera gli esami di arabo e turco, poi, l'anno dopo, a quella di giurisprudenza, ma per via dello scarso profitto non riuscirà mai a ottenere la laurea, provvede quindi da solo alla propria istruzione, ma questa formazione da autodidatta gli provocherà spesso un senso di disagio in società. La giovinezza dello scrittore è disordinata, tempestosa, a Kazan passa le serate tra feste e spettacoli, perdendo grosse somme al gioco d'azzardo, circa dieci anni dopo, a Baden Baden, perderà ancora rovinosamente al gioco e lo salverà l'amico Turgenev concedendogli un prestito, ma intanto legge molto, soprattutto filosofi e moralisti. Non a caso, l'opera della conversione di Tolstoi, scritta trent'anni dopo, si intitolerà appunto, similmente a l'autobiografia rosseoiana, La confessione. Autori come Rousseau, Stern, Pushkin, Gogol insegnano allo scrittore in erba un principio fondamentale, in letteratura sono importanti soprattutto la sincerità e la verità. Proprio sotto questi influssi nascono le opere letterarie di Tolstoi, nel 1851 avviene la prima redazione del racconto Infanzia, che uscirà sulla rivista Dean Krasov Sovremennik nel 1852, firmato con le sole iniziali, e la stesura di un altro racconto, incompiuto, storia della giornata di ieri. Lo scopo di quest'ultimo, secondo le parole dell'autore, era estremamente semplice e insieme complicatissimo, quasi irrealizzabile, descrivere una giornata, con tutte le impressioni e i pensieri che la riempiono. Da questo germe si può già intravedere lo sviluppo della possente pianta, tendenza all'introspezione e alla vita reale. Tolstoi resterà fino alla fine un incrollabile realista. L'immaginazione slegata dalla realtà è quasi inesistente nei suoi libri. L'unica possibilità di utilizzare la fantasia consiste nell'elaborazione di qualche particolare, di qualche sfumatura che appartiene però a un oggetto assolutamente reale. Anche il successivo racconto, pubblicato sempre su Sovremennik, è ispirato a criteri di verità quasi naturalistici, l'incursione, che nasce dal ricordo di un'autentica scorribanda compiuta da un battaglione russo in un villaggio caucasico. L'esperienza della guerra. Tra il 1851 e il 1853 Tolstoi, seguendo il fratello maggiore Nicolai, partecipa alla guerra nel Caucaso, prima come volontario, poi come ufficiale d'artiglieria. Nel 1853 scoppia la guerra russo-turca e, dietro sua richiesta, Tolstoi viene trasferito in Crimea, a Sebastopoli, dove si combatte sul famoso quarto bastione. Qui conduce la vita del soldato, combatte coraggiosamente, affronta rischi d'ogni sorta, osserva tutto con attenzione, guarda in faccia il pericolo, e tuttavia gli avvenimenti più tragici avvengono dentro di lui, si sente inquieto, costantemente in bilico tra la vita e la morte, ma col desiderio di dedicare la propria esistenza a nobili ideali. Nel diario del 1854, anno in cui pubblica adolescenza, otro cestvo, annota, la cosa più importante per me è liberarmi dai miei difetti, la pigrizia, la mancanza di carattere, l'irascibilità. Nel marzo del 1855 decide finalmente riguardo al proprio destino, la carriera militare non fa per me, e prima me ne tirerò fuori, per dedicarmi totalmente alla letteratura, tanto meglio sarà. La guerra di Crimea, cruenta e rovinosa per l'esercito russo, lascia un sulco profondo nel giovane Tolstoi e gli offre, d'altra parte, abbondante materiale per una serie di racconti, il ciclo dei tre racconti di Sebastopoli, Sebastolpolski-Rascazzi, 1855, e poi il taglio del bosco, la tempesta di neve e i due Ussari. Ispirate alle violenze della guerra, queste opere sconvolgono la società russa per la spietata verità e l'assenza di qualsiasi forma di romanticismo guerriero o di patriotismo sentimentale. Nessuno prima di lui ha descritto la guerra in quel modo, è una voce nuova nell'epoca d'oro della letteratura russa. Nel gennaio del 1856, Fyodor Dostoyevsky scrive dalla Siberia a un corrispondente, parlando di Tolstoi, mi piace molto, ma secondo me non scriverà molto, ma del resto, chissà, forse mi sbaglio. La censura esita ad autorizzare la pubblicazione dei tre racconti di Sebastopoli, cerca di vietare il secondo per l'atteggiamento derisorio nei confronti dei nostri coraggiosi ufficiali, ma alla fine lascia correre, pur imponendo tagli e modifiche. Nel 1856 vengono raccolti in un unico volume con il titolo Racconti di guerra. La sensibilità verso le miserie sociali. Nel 1856 Tolstoi assiste il fratello Dmitri, che muore di tubercolosi. Si interessa poi per migliorare le condizioni dei contadini di Giasna Giapoliana, ma questi sono diffidenti e rifiutano le sue proposte, come accade al protagonista della mattinata di un proprietario terriero, raccontò che Tolstoi pubblica in quell'anno, e come accadrà anche al protagonista di Resurrezione, romanzo di molti anni più tardi, di ispirazione parzialmente autobiografica. Si apre per Tolstoi un periodo ricco di riflessioni, con ricerche, viaggi, un crescente interesse per l'istruzione popolare e l'attività di giudice di pace nelle contese tra proprietari e contadini, proprio a cavallo dell'abolizione della servito della gleba, che stimolano in lui lo svilupparsi di una particolare sensibilità verso le ingiustizie sociali. Sul versante della produzione letteraria, nei nove anni che vanno dai racconti di guerra alla prima parte della grandiosa epopea Guerra e pace, lo scrittore pubblica diversi altri racconti, Giovinezza, Junost, 1857, ultimo della trilogia comprendente Infanzia e Adolescenza, Tre Morti, Alberto, Felicità familiare, Idillio e Policasca, 1863. Quest'ultimo riscuoterà, nel ventesimo secolo, particolare apprezzamento da parte di Ignazio Silone, il 1863 e anche l'anno di pubblicazione dei Cosacchi, Kazachi, opera ispirata ai ricordi del Caucaso e lungamente rielaborata nel corso di un decennio, in cui sono evidenti gli achi della lettura rosseoiana e in cui si esprime, con entusiasmo, la nostalgia per la vita a contatto con la natura, semplice e felice. Intanto, lo scrittore viaggia per l'Europa, dove ha modo di conoscere Proaun, Herzen, Dickens. A sconvolgerlo sono gli abusi del potere, la miseria dei poveri, la pena di morte, ma, non di meno, lo angoscia la vita russa, specialmente quella dei contadini. In questi anni comincia così a manifestarsi, in maniera sempre più evidente, una caratteristica fondamentale della personalità tolstoiana, l'insoddisfazione di se stesso, della propria esistenza, della propria opera. Come Olenin, l'eroe dei Cosacchi, che rifiuta la società falsa e ipocrita per rifugiarsi nel Caucaso, anche Tolstoi, all'inizio degli anni Sessanta, decide di abbandonare gli impegni mondani, compresi quelli letterari, per rifugiarsi nella propria tenuta, con l'intento di dedicarsi, nella scuola da lui stesso fondata all'istruzione dei bambini del villaggio. Matrimonio e figli Il 23 settembre 1862, dopo appena una settimana di fidanzamento, sposa la diciottenne Sofja Andreevna, seconda delle tre figlie del medico di Cortebers. Lo scrittore, non volendole nascondere nulla, le fa leggere, alla vigilia delle nozze, i suoi diari intimi. La madre di Sofja, Lvovislavina, era stata amica d'infanzia di Tolstoi. Avranno tredici figli, per inciso, Tolstoi, qualche anno prima di sposarsi, nel 1858, si era innamorato di Asnja, una contadina dalla quale aveva avuto un figlio, che egli non aveva accettato di riconoscere e che molti anni dopo lavorerà, come cocchiere, per i Tolstoi. Sofja, venuta a conoscenza di questo episodio del passato del marito, fremette non poco di gelosia e scrisse, se potessi ucciderlo, e poi ricrearlo esattamente uguale, lo farei con piacere. Guerra e pace e il destino di Tolstoi, dopo il matrimonio, non poteva essere quello di un tranquillo proprietario di campagna, tanto più che la vita familiare, all'inizio felice, stimolava persino i suoi istinti creativi, in sette anni portò a termine guerra e pace, Vojnajmir, 1863-1869. La scelta di un tema storico, di fatti avvenuti 50 anni prima, non era un rifiuto a partecipare ai dibattiti sulle grandi riforme, sullo scontro tra liberali e conservatori, sui primi attentati terroristici, o anarchici come allora venivano chiamati, anzi era una risposta proprio a quei dibattiti, agli attacchi dei democratici contro la struttura nobiliare, alla campagna per l'emancipazione della donna. Molte delle nuove idee furono accolte da Tolstoi con scetticismo. Il suo ideale era una società buona e patriarcale, era la purezza della vita secondo natura. In guerra e pace Tolstoi affrontò questioni fondamentali di carattere storico-filosofico, come il ruolo del popolo e dell'individuo nei grandi avvenimenti storici. Contrapponendo Napoleone a M.I.Kutusov, l'autore volle polemicamente dimostrare la superiorità di Kutusov, che aveva capito lo spirito delle masse e aveva afferrato l'andamento degli eventi che vanno assecondati e non contrastati. Le due linee centrali del romanzo sono indicate dal titolo stesso, la guerra e la pace. Attraverso l'intrecciarsi dei due motivi nasce un'unità, una sintesi dell'estetico e dell'etico, una somma della vita russa dell'inizio del XIX secolo, vista dall'interno. Due sono le date entro cui scorrono gli avvenimenti, il 1805, anno della prima, sfortunata campagna contro Napoleone che si chiude con la sconfitta di Austerlitz, e il 1812, anno della gloriosa guerra in patria che vede insorgere tutto il popolo russo in difesa del territorio nazionale. E se l'ambiente sociale in cui si muovono i protagonisti è l'alta nobiltà moscovita e pietroburghese, il sostrato autentico verso cui tendono il popolo, la nazione contadina, per più passiva, ma che nei momenti cruciali riesce a imporre la propria volontà. Nel ritrarre la nobiltà, Tolstoi non nasconde il proprio rifiuto, la propria intransigenza, pone da un lato il clan dei depravati Kuragin, malvagi portatori di male, di corruzione, e dall'altro i Rostov, serena immagine di una classe in declino, incapace di gestirsi economicamente ma portatrice di valori ancora accettabili. Su questo sfondo si stagliano i tre protagonisti, il cui cammino spirituale sovrasta quelli di tutti gli altri personaggi, il principe Andrei Bolkonski, fin dalle prime pagine in polemica con la società salottiera pietroburghese, è attratto dal sogno di gloria di un atto eroico, Battaglia di Austerlitz, passa poi attraverso stadi di scetticismo e di indifferenza per rinascere alla vita attraverso l'amore per Natasha. La sua morte è un doloroso processo di illuminazione ed elevazione spirituale, simile a quello di Ivan Illich. Anche Pierre Bezukov entra nel romanzo contestando le idee dei nobili vicini alla corte, ma, personaggio più sensuale di Andrei, viene inizialmente attratto dai falsi valori impersonati dai Kuragin, che lo spingono a stravizi e a un matrimonio senza amore con la bellissima Hélène, sorella del fatuo e corrotto Anatol. Il desiderio di autoperfezionamento lo spinge verso la massoneria, ma la maturazione profonda avviene a contatto con il popolo di soldati contadini durante la prigionia e soprattutto attraverso l'incontro con Karataev, l'uomo giusto per eccellenza. Pierre incarna il vero, profondo tema universale del romanzo, affine in questo a Levin Diana Karenina e Ancel Giudov di Ressurrezione, il tema dell'eterna ricerca, del continuo conflitto tra la realtà esterna, storica, e l'individuo che tende alla purificazione interiore. Natasha Rostova è una forza della natura, simbolo vivente di una inafferrabile realtà politica, dell'armonia del mondo secondo Tolstoi, e in questo senso estranea i tormenti intellettuali di Andrei. La sua spontaneità, la sua grazia, i suoi impeti infantili si maturano faticosamente attraverso l'amore e la morte di Andrei, la volgare seduzione di Anatol Kuragin, il portatore del male che tenta anche lei, e infine l'incontro amoroso con Pierre. Anna Karenina Il romanzo successivo, Anna Karenina, 1873-1877, è un'opera aggressiva e polemica, che affronta gran parte dei problemi sociali di quegli anni. L'azione del romanzo si svolge in un ambiente che Tolstoi conosceva perfettamente, l'alta società della capitale. Tolstoi denuncia tutte le segrete motivazioni dei comportamenti dei personaggi, le loro ipocrisie e le loro convenzioni, e forse, quasi senza volerlo, mette sotto accusa non Anna, colpevole di aver tradito il marito, ma la società, colpevole di averla annientata. La forza di Tolstoi artista si identificava con la potenza di Tolstoi moralista, il quale toglieva a chiunque l'arbitrio di giudicare, perché solo Dio può giudicare, come è detto nelle bibliche parole dell'epigrafe, a me la vendetta, io farò ragione. Anna Karenina è l'antecedente di tutta una serie di romanzi del XX secolo, costruiti secondo i principi della psicoanalisi. In molti punti il romanzo è autobiografico, nel personaggio di Levin, dedito alla conduzione delle proprie terre e alla famiglia, Tolstoi rappresenta se stesso, mentre in alcuni splendidi personaggi femminili, non in Anna, sono riconoscibili certi tratti della moglie, che peraltro aiutò Tolstoi nella stesura dell'opera, consigliandolo su come far procedere la trama. La conversione all'etica del discorso della montagna già in Anna Karenina Tolstoi si era accostato ad alcuni tormentosi problemi connessi con la sua crisi di scrittore e con il crollo dei valori dell'alta società che fino a poco tempo prima gli erano sembrati indistruttibili. Tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta si sviluppò via via in lui una profonda crisi spirituale e una conseguente conversione morale a Evangeli e al cristianesimo, dapprima in obbedienza alla chiesa ortodossa russa e successivamente, dal 1881, considerato da Tolstoi l'anno d'inizio della sua autentica rigenerazione interiore, in contrasto con essa, alla base del suo pensiero religioso rimarrà il Vangelo, ma è purato di ogni elemento soprannaturale, ponendo attenzione in particolare al discorso della montagna, che diventerà il cardine del suo modo di intendere la religione cristiana. Accanto alle sacre scritture cristiane, Tolstoi meditava testi orientali, ad esempio buddhisti e taoisti, oltre che filosofici, tra cui il mondo come volontà e rappresentazione, nella affannosa ricerca di risposte ai propri dubbi esistenziali. Abbracciò gradualmente una dieta vegetariana, per compassione verso gli animali, e cercò di praticare uno stile di vita di sobrietà e povertà. Il desiderio di non vivere nel lusso, di non possedere alcunché, di non mangiare più carne, tutte idee nient'affatto condivise dalla moglie di Tolstoi, furono alla base di un lacerante e interminabile conflitto casalingo. La famiglia, pur continuando a stare insieme, si divise, per così dire, con le figlie, simpatizzanti per le idee del padre, da una parte, e dall'altra i figli maschi, in difesa della madre, la quale sempre più spesso si abbandonava a crisi di isteria contro le nuove visioni etiche, per lei folli e incomprensibili, del marito. A opporsi alle idee radicali di Tolstoi fu anche Dostoievski, che aveva elogiato Anna Karenina ma non condivideva le concezioni non violente del suo maggior rivale in ambito letterario, i due narratori si scambiarono pubbliche critiche e preferirono, per reciproca diffidenza, non incontrarsi mai di persona. Il 1880 è un anno che Tolstoi dedica pienamente allo studio critico filologico dei Vangeli. Nel 1881 Alessandro II viene assassinato e Tolstoi scrive al successore, Alessandro III, per esortarlo a essere clemente con gli attentatori del padre. Ma la richiesta non ha seguito, i colpevoli vengono impiccati e il nuovo zar instaura un regime repressivo con deportazioni e massacri, avvalendosi dell'Ocrana, la polizia politica. A partire dalla sua cosiddetta conversione, Tolstoi lavora instancabilmente, sino alla morte, a numerose opere saggistiche e autobiografiche, oltre che narrative e drammaturgiche, di carattere morale e religioso. Trasferitosi con la famiglia a Mosca, dove rimarrà per diversi anni, nel gennaio del 1882 decide di partecipare al censimento della popolazione, è l'occasione per scoprire i mille volti della miseria di città, non meno drammatica di quella delle campagne. Queste esperienze tra i poveri saranno la base per il saggio che fare? O che cosa dobbiamo fare? Del 1886. Nella confessione egli riferisce di aver attraversato, in concomitanza con la crisi spirituale, una profonda depressione, che stava per indurlo al suicidio, e di esserne uscito grazie all'idea di una religione vissuta con umiltà e semplicità insieme al popolo, da qui la critica alle filosofie elitarie e pessimiste di Buddha, del Coelette e di Schopenhauer, che in un primo momento lo avevano attratto. Tolstoi descrive, in quest'opera che ha la forma di un diario, le fasi della propria conversione morale, avvenuta dapprima in linea con la Chiesa ortodossa e successivamente evolutasi in quello che oggi definiremmo un cristianesimo anarchico, cioè una fede dai forti tratti etici ma vissuta al di fuori delle Chiese ufficiali e anzi in contrasto con il clero e con i tradizionali dettami dogmatici. Pavel Aleksandrovich Florensky scriverà a Tolstoi una lettera appassionata, che probabilmente non gli verrà mai recapitata, ha appena letto la confessione e, in preda anche gli a una crisi spirituale, ne raccoglie la provocazione. Nell'opera teatrale La potenza delle tenebre Tolstoi descrive la forza con cui l'egoismo e il vizio possono avviluppare l'anima umana, alla quale resta però sempre possibile il riscatto morale. In della vita, o sulla vita, 1887-1888, egli cerca di sintetizzare, capitolo dopo capitolo, le riflessioni che sta raccogliendo in questi anni sul senso della vita e della morte. Lo scrittore, col maturare della conversione e lo svilupparsi delle proprie riflessioni religiose, abbraccia con fervore ideali radicalmente pacifisti, nella convinzione che solo l'amore e il perdono, come insegnato dal discorso della montagna, possano unire le genti e dar loro la felicità, queste idee vengono da lui espresse, ad esempio, nella già citata lettera a Lozare e nella lettera a Engelgard, e sviluppate ampiamente nei saggi la mia fede e il regno di Dio in voi, culmine della conversione morale di Tolstoi e fra gli antesignani della filosofia non violenta contemporanea. Un impegno a tutto campo. Stimolata dall'impegno sociale, l'energia creativa dello scrittore è più che mai fervida, nella seconda metà degli anni Ottanta essa produce alcuni tra i migliori racconti, il jazz, la morte di Ivan Ilic, smertivana Ilica, 1886, il diavolo, la sonata a Kreuzer, e i drammi La potenza delle tenebre, Vlastmai, 1886, e i frutti dell'istruzione. Degli anni Novanta sono il padrone e il lavorante, Agiosha Gorshok e Padre Serdi, 1890-1898, pubblicato nel 1912. Tolstoi si fa editore e, oltre alle proprie opere, inizia a diffondere decine di milioni di copie di testi formativi, come ad esempio la di Dachè, i pensieri di Laozzi e i colloqui con se stesso di Marco Aurelio, venduti per poche copie che al popolo russo. La casa editrice è chiamata Puserdnik, l'intermediario, e si propone di istruire le masse. Nell'estate del 1891 una grande carestia si abbatte sulle province centrali e sud-occidentali della Russia, per via di una siccità prolungata. In tale circostanza, Sof già è molto vicina al marito nell'aiutarlo a mobilitare una catena internazionale di soccorsi per i contadini che stanno morendo letteralmente di fame, ma il conflitto fra i coniugi torna ad inaspirsi subito dopo, quando Tolstoi trasmette ai giornali la sua decisione di rinunciare ai diritti d'autore per le opere scritte dopo la conversione. Nello stesso anno, lo scrittore si reca a Firenze per partecipare ad un convegno ecumenico dal titolo Conferenze sulla fusione di tutte le chiese cristiane, dove si dichiara favorevole alla proposta di fondere le chiese cristiane in una sola che abbia per capo il Papa di Roma e per base la sua organizzazione esteriore nella formula cavuriana e per fondamento del suo pensiero le massime di Cristo e delle Evangelo. Intanto diventano sempre più tesi i rapporti con la censura e con la chiesa ortodossa, la sonata a Kreuzer, in cui Tolstoi intende, con la cronaca di un adulterio, esaltare indirettamente la castità evangelica, supera il veto solo per intervento personale di Alessandro III, dopo un incontro con la moglie dello scrittore. La crescente irritazione dei circoli governativi ed ecclesiastici è dovuta alle sue accese proteste contro le persecuzioni delle minoranze religiose in Russia, come i Dakobors, per la cui migrazione gli devolverà gli introiti di resurrezione, e i Molocani meno, alle sue roventi accuse contro la nobiltà, contro le istituzioni statali, contro la falsa morale dei potenti. Del 1892 è il primo gradino, a cui seguirà, qualche anno dopo, contro la caccia. Entrambi gli scritti sono degli accalorati manifesti in favore dei diritti degli animali e del vegetarianismo. Nel 1896 scrive una lettera agli italiani, che verrà pubblicata solo molti anni dopo, contro la guerra italo-abissina e nel 1899 una lettera agli svedesi sulla renitenza alla leva. Gli scritti saggistici e pubblicistici appaiono spesso meno concisi e lineari rispetto alle opere del Tolstoi narratore, ma ciò è dovuto al fatto che, desiderando egli dare maggiore importanza al contenuto che alla forma, alla comunicazione piuttosto che ai suoi modi, si proponeva di risultare il più chiaro possibile, al rischio di ripetersi mille volte e di apparire di da scalico. In che cos'è l'arte? Tolstoi affida proprio all'arte, intesa, nella sua forma più pura, come un'attività di esortazione, attraverso i sentimenti, al bene e ai valori di fraternità, il compito di diffondere tra il popolo l'etica dell'amore. Nell'agosto del 1897 riceve una visita di più giorni da parte di Cesare Lombroso, che desiderava incontrarlo. I due nuotano insieme nella tenuta di Giasna Giappoliana, ma quando l'italiano inizia a parlare delle proprie convinzioni sui criminali di nascita e sulla pena come difesa sociale, Tolstoi esplode esclamando, tutto ciò è delirio. Ogni punizione è criminale. Nel luglio del 1898 chiede ad alcuni amici russi e finlandesi di aiutarlo a fuggire in Finlandia, lontano dalla moglie e dalla famiglia, ma il tentativo viene poi abbandonato. Resurrezione in resurrezione, Vos Cresenie, 1889-1899, Tolstoi descrive l'angoscia profonda dell'uomo di coscienza, e in primo luogo dell'autore, stretto nel meccanismo della burocrazia statale, nel ferreo ordine delle cose. Il romanzo denuncia in particolare la disumanità delle condizioni carcerarie e l'insensatezza delle vigenti istituzioni giudiziarie. Qual è la via di scampo? Un approccio radicale alla morale cristiana, intesa, quale buona novella rivolta agli ultimi della società, come iniziativa etica atta a migliorare concretamente la vita degli uomini oppressi su questa terra, nello spirito del discorso della montagna ripetutamente citato da Tolstoi in quest'ultima sua grande fatica narrativa. Nchel Giudov, il protagonista del romanzo, vive le medesime rivoluzioni interiori dell'autore, l'iniziativa di donare, o meglio, restituire, i propri possedimenti terrieri ai contadini, la volontà di rinunciare alla vita sfarsosa e mondana e di dedicare la propria esistenza al servizio dei dimenticati e alla liberazione degli sfruttati e degli oppressi. Anche Catiusa, la figura femminile con la quale e attraverso la quale Nchel Giudo cerca un riscatto, compie un cammino di redenzione morale, da prostituta a sposa. La resurrezione dei protagonisti avviene quindi nell'accezione metaforica di una rinascita etica, simile a quella vissuta, o perlomeno disperatamente cercata, nonostante le contrapposizioni con la moglie e i familiari, dallo stesso Tolstoi. La nascita di un movimento. Tolstoi ricevette lettere e visite da persone di ogni età ed estrazione sociale, tra cui Victor Lebrun, che avevano letto i suoi scritti, molti dei quali proibiti dalla censura, e ne ammiravano il pensiero morale e sociale. Sulla spinta di Vladimir Chertkov, e non per iniziativa dello stesso Tolstoi, che era scettico verso tutto ciò che assomigliasse ad una setta, nacque la corrente del Tolstoismo, ispirata all'etica filosofico-religiosa di Tolstoi, e i cui seguaci saranno poi violentemente perseguitati sotto il regime comunista. La scomunica. Il 20-22 febbraio 1901 il Santo Sinodo scomunicò Tolstoi per le sue idee anarchico-cristiane e anarcho-pacifiste. Konstantin Pobedonostsev, procuratore del Sinodo, aveva chiesto anni prima di rinchiudere con la forza Tolstoi in un monastero. Ma ormai lo scrittore aveva raggiunto una fama enorme e le persecuzioni non facevano che aumentarne la popolarità, tanto che la sua eliminazione fisica era ritenuta imprudente dagli stessi vertici politici, i quali si rendevano conto che in tal modo lo avrebbero reso un martire scatenando grandi rivolgimenti sociali. Furono organizzati cortei di solidarietà in favore di Tolstoi e la sua casa fu circondata da una folla osannante. Lo scrittore ribatte punto per punto alle accuse rivoltegli nel testo della scomunica scrivendo una risposta alla deliberazione del Sinodo, in cui rivendicava il suo essere un onesto seguace di Cristo e della verità. Gli inizi del Novecento. L'ultimo decennio vede allinearsi una serie di piccoli capolavori letterari, tra cui Cezzi Mora, 1896-1904, pubblicato nel 1912, La cedola falsa, 1902-1904, pubblicato nel 1911, Dopo il ballo, 1903, pubblicato nel 1911, Appunti postumi dello Starec Fedor Xmic, 1905, pubblicato nel 1912, Il divino e l'umano e il dramma e il cadavere vivente, 1900, pubblicato nel 1911. In queste opere si avverte una continua oscillazione interiore, da una parte la fede nell'amore universale, nell'avvento del regno dell'armonia, il regno di Dio in terra, attraverso mezzi pacifici, dall'altra la constatazione dell'estrema distanza tra tale avvento e la realtà. Così, se da un lato c'è l'ideale del contadino che tutto perdona e tutto sopporta e del perfezionamento morale come unica possibile salvezza, dall'altro ci sono le contraddizioni della realtà concreta in cui Tolstoi vive. Nel 1900, dopo l'assassinio del re d'Italia Umberto I per mano dell'anarchico Gaetano Bresci, Tolstoi scrive l'articolo Non uccidere. Nel 1901 lo scrittore è candidato al premio Nobel per la letteratura e gli osservatori lo danno per favorito, tanto che Tolstoi si affretta a scrivere ad un giornale svedese perché l'importo della vincita si è devoluto ai Dakobors, ai quali egli aveva già donato gli introiti di resurrezione, ma il premio viene poi assegnato a Suli Prudom. Allo scoppio della guerra russo-giapponese, lo scrittore invoca con forza la pace, contro la guerra russo-giapponese, 1904, ma proprio suo figlio Andrei, 26enne, si arruola come volontario per combattere al fronte, suscitando lo sdegno del padre, tuttavia Andrei verrà congedato dell'esercito, dopo qualche mese, per disturbi nervosi. L'anno successivo, egli profonde le sue ultime energie nel cercare di comprendere i drammatici avvenimenti d'inizio secolo e nell'insistere a chiedere, come una voce che grida nel deserto, delle soluzioni di pace ad un mondo che scivola verso l'abisso del conflitto globale, divino e umano, 1905, perché? 1906, sull'annessione della Bosnia e dell'Herzegovina all'Austria, 1908, Chi sono gli assassini, 1908, 1909. Del 1908 è la lettera a un hindu, che viene apprezzata e diffusa da Gandhi, il quale inizierà, l'anno successivo, uno scambio epistolare con Tolstoi. Nel 1909 lo scrittore tenta, con appelli alla Duma di Stato e a Stolipen, di convincere il governo ad abolire la proprietà privata della terra, onde scongiurare una grande rivoluzione, che egli reputa imminente. Già nel precedente articolo al popolo lavoratore Tolstoi aveva affrontato l'argomento, individuandone la proprietà fondiaria la maggiore ingiustizia sociale presente. La liberazione della terra tuttavia non doveva avvenire con la violenza, ma tramite il boicottaggio, dei contadini a lavorare la terra altrui, e la disobbedienza, dei soldati nel reprimere le occupazioni. Per quanto riguarda la ridistribuzione della terra, una volta liberata, e gli appoggiava il progetto di Henry George, ossia l'imposta unica sulla terra. Nel luglio dello stesso anno, riceve un invito al congresso della pace a Stoccolma e inizia a preparare una conferenza, ma la moglie si oppone alla sua partenza, minacciando, come altre volte, il suicidio e costringendo Tolstoi a restare a casa. La fuga e la morte. Desideroso di compiere il tanto vagheggiato salto decisivo col quale avrebbe lasciato tutto per Cristo, Tolstoi mise finalmente in pratica il progetto di andarsene di casa. Il crescendo di liti con la moglie e con i figli, da parte dei quali aveva il terrore di subire violenze atte a fargli redigere in loro favore un testamento, gli causava del resto enormi sofferenze. Così, nella notte del 28 ottobre 1910, secondo il calendario Giuliano, dopo essersi accorto che la moglie frugava di nascosto fra le sue carte, lo scrittore, sentendosi più che mai oppresso, si allontanò di soppiatto da Jasna Giapoliana, dirigendosi verso la Crimea su treni di terza classe, accompagnato dal medico personale Dusan Mekovitsky, il quale gli era anche amico fidato. Sulla sua scrivania, a testimoniare le paure degli ultimi giorni, era rimasta aperta una copia dei fratelli Karamazov di Dostoievski al punto in cui il figlio si abbandona alle vie di fatto con il padre. Durante il viaggio, a causa del freddo e della vecchiaia, lo scrittore ben presto si ammalò gravemente di polmonite e non poteva andare oltre alla stazione ferroviaria di Astapovo. Accorsero parenti, amici, tra cui il suo segretario Valentin Bulgakov, e i giornalisti ad attorniare il morente. Febbricitante, le sue ultime parole furono, svignarsela. Bisogna svignarsela. E, la verità. Io amo tanto. Come loro. Fu impedito alla moglie di avvicinarsi al capezzale se non poco prima che egli ispirasse e quando era ormai già privo di conoscenza, la mattina del 7 novembre 1910. In riferimento a Tolstoi sul letto di morte, la sepoltura. Fu sepolto nei pressi della sua casa. La tomba è semplicissima, con il cumulo di terra e la sola erba, senza croce, senza nome, sull'orlo di un piccolo burrone. Aveva indicato lui il luogo, lo stesso nel quale era sepolto, ricordo dell'amato fratello maggiore Nicolai, un bastoncino verde simbolo delle speranze dell'umanità, anniversari e studi. Decine sono state le manifestazioni organizzate per la ricorrenza dei cento anni della morte dello scrittore, dalla Germania agli Stati Uniti, con la pubblicazione di nuove traduzioni delle sue opere. La tenuta di Jasnaj Apoliana rimane il centro dell'attività degli studiosi di Tolstoi e della sua famiglia. Nell'estate 2010 si sono riuniti più di 350 discendenti dello scrittore i quali si incontrano, ali in circa una volta ogni quattro anni, per conoscersi meglio e scambiarsi opinioni sul da farsi. L'informatizzazione dei capolavori e degli studi a loro dedicati è la direzione intrapresa. I russi apprezzano il lavoro finora svolto, a giudicare dai più di 3 milioni di contatti con il sito internet dedicato a Tolstoi. Questo audio usa il materiale della pagina Wikipedia Lev Tolstoi il cui indirizzo è www.wikipedia.org slash wiki slash levander scortolstoi che è rilasciato sotto la licenza creative commons, attribution sheroic 3,0 unported, cc by sa 3,0. Vedi informazioni all'indirizzo creativecommons.org slash licenses slash by sa slash 3.0.